Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Fortnite vi spiegherò come fare una missione segreta, una sfida segreta. Dovete praticamente arrivare qui al faro, dietro al faro troverete questo blocco, lo colpite, come potete vedere, per creare la sfinge. Quindi dovete farlo per tre volte, in tre luoghi diversi. Questo è il primo. La seconda si trova praticamente poco più distante dal faro. La prima sta qua, la seconda sta qua, quindi dovete raggiungere questa zona e troverete la seconda sfinge, che dovrete ovviamente colpire. Quindi quello è il faro, dietro il faro c'è il primo. Qui troverete il secondo. Sono tre in tutto. Eccoci qua. Questo è il secondo, vedete? Vi avvicinate e colpite. Adesso vediamo il terzo. Il terzo si trova praticamente a cala, corallina. Lo trovate qui. Ecco qua. Colpite e voilà, la sfida è completata. Quindi primo, secondo, terzo. Ciao.